I due maxi scooter che abbiamo qui oggi e rappresentano ovviamente il nostro esordio in questo segmento. Secondo le nostre ricerche di mercato, i nostri clienti ci chiedevano un maxi scooter anche per muoversi in città. Quindi oggi partiamo con questi e se otterremo il successo sperato, posso già pronunciare che entro i prossimi 3, 4 e anche 5 anni vedremo alcuni altri veicoli espressamente pensati per la mobilità urbana. In questo momento, in ogni caso, anche a livello di immagini i maxi scooter rappresentano la nostra priorità. Naturalmente abbiamo sempre trasferito parecchia della nostra tecnologia automobilistica anche al settore moto. Tanti anni fa fumo i primi a montare l'ABS, che negabilmente rappresenta un grande aiuto per la sicurezza, e oggi il 98% delle BMW vendute in tutto il mondo montano l'ABS, che ovviamente è standard anche sui nuovi scooter. Siamo i primi costruttori ad introdurre anche sulle moto le luci diurne con la nuova tecnologia LED, e siamo stati anche pionieri nel campo dell'ammegliamento tecnico sviluppato da noi con il nostro marchio, a partire dal casco, sempre con comfort e sicurezza come obiettivo. Del resto, il motociclismo ha sempre più bisogno di sicurezza, e tutti gli altri costruttori dovrebbero fare quanto meno quello che fa BMW in questo campo. Noi cerchiamo continuamente di fare del nostro meglio, e lo dimostrano particolari come le sospensioni attive, piuttosto che i dispositivi per evitare che le mani di chi guida si congelino. E pochi giorni fa abbiamo presentato anche il primo ABS per l'uso in fuoristrada, montato sulle moto della nostra affiliata Husqvarna. Insomma, la leadership nel campo della tecnologia e della sicurezza arriva da BMW. Non lo so, non lo so. Siamo in superbike, siamo lì per vincere, ma non l'abbiamo ancora fatto. Però abbiamo vinto dal punto di vista commerciale, perché abbiamo creato un eccellente superbike stradale, la S1000RR, che ha vinto parecchie prove comparative ovunque, e probabilmente diventerà la supersportiva più venduta del mondo. Certo, non abbiamo conquistato il mondiale superbike, ma stiamo lavorando sodo per farlo. Non si può pianificare proprio tutto al 100%, ci sono molte componenti come l'esperienza, la fortuna ed altre condizioni che possono portarla alla vittoria o meno, ma dobbiamo arrivarci. Il nostro team interno e quello italiano diretto da Andrea Buzioni gestiscono quattro moto, con le quali dobbiamo senz'altro vincere. Chiacchierando nei box abbiamo parlato spesso dell'argomento, che è certamente affascinante. C'è un'eccezionale copertura mediatica, ci sono piloti eccellenti ed è un'organizzazione estremamente professionale, superiore a quella della superbike, devo dirlo. E la cosa ci tenta molto, ma per ora dobbiamo impagnarci in quello che già stiamo facendo. Dateci del tempo. Mi piace la MotoGP, Carmelo Speletta è un mio buon amico e mi prega spesso di cambiare categoria, ma lui sa che alla fine è anche una questione commerciale. Correre costa molto, e i costi devono scendere, sia ad Orna che in Front lo sanno bene. Inoltre le regole devono essere chiare e uguali per tutti i costruttori, senza eccezioni, e ciò vale per entrambi gli organizzatori. Solo garantendo stabilità, sicurezza normativa e costi più accessibili, entrambi i campionati avranno successo.